Dormiva in un bivacco improvvisato nei boschi di Mozzate nei pressi di via Varesina Bis. Quando ha visto i carabinieri ha opposto resistenza e ha ferito un militare alla mano. La perquisizione ha permesso di scoprire coltello, droga e contanti. L'uomo, un 24enne di origini straniere, è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti fini di spaccio, porto abusivo d'arma e resistenza pubblico ufficiale. L'operazione si inserisce nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare appunto lo spaccio. I carabinieri di Mozzate, insieme con il personale dello squadrone Carabinieri Cacciatori Calabria, si sono avvicinati al 24enne durante le prime ore di stamattina, mentre dormiva in un bivacco improvvisato. Con sé aveva oltre 2,5 grammi di cocaina, 10 grammi di hashish, circa 100 euro in contanti e un cellulare. I controlli nei boschi noti per le attività di spaccio sono iniziati nei giorni scorsi. Sabato pomeriggio i carabinieri hanno organizzato un servizio straordinario nell'area del Parco Pineta, sempre con la collaborazione degli squadroni cacciatori di Calabria e Sicilia. Verifiche concentrate nell'area dei comuni di Appiano Gentile e oltre una sammamette. Sono stati geolocalizzati e smantellati 5 bivacchi, trovati capi di vestiario, generi alimentari, materiale per il confezionamento dello stupefacente, un bilancino di precisione e un coltello. Per tutto il mese di aprile e maggio le verifiche proseguiranno con i militari dei reparti ad elevata specializzazione che sintetizzano, in un'unica visione operativa, procedure militari e tecniche di polizia con capacità di operare in terreni impervi. Tanto nel Comasco, nel Parco Pineta e della Lura, quanto in territorio di Varese, sono quindi iniziati controlli straordinari dei berretti rossi contro pusher e spacciatori. A spiegarlo è il sottosegretario al Ministero dell'Interno, il Comasco Nicola Molteni, che segue costantemente l'evolversi delle cronache. Avevamo preso l'impegno di intervenire con fermezza in queste zone franche, ormai terra di legalità, vere e proprie centrali di criminalità e droga, continua l'esponente del Governo, e ora lavoriamo per estendere i controlli dei cacciatori dell'arma, ben oltre i due mesi previsti. Oltre agli squadroni e li portati dei carabinieri, continueranno ad essere pianificati i controlli territoriali ad alto impatto dalle prefetture con polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza. I controlli continueranno a tappeto e senza sosta, conclude il sottosegretario al Ministero dell'Interno, ringraziando tutte le forze di polizia per lo sforzo messo in campo anche nei giorni di festa.